Il play di Taranto classe 97, ribaltamento di fronte, Balciunas da tre punti, trova il ferro, rimbalzo di Chiappelli, Balciunas c'è sul ribaltamento di fronte, Balciunas azione personale, va dentro il lituano. E' anche delle giornate più negative, è perlomeno uno che ti lega la squadra, cerca di metterli in condizioni e di lavorare bene. Ed infatti i gradi da capitano manca un minuto al termine del terzo quarto, Morina, Balciunas, blocco di Morara, passaggio per Morara, Chiappelli, Balciunas, la Virtus, gira la palla, tiro da tre. E' sempre elevata, dobbiamo migliorare quelle da due per quanto riguarda la Virtus, ma anche loro stanno sbagliando un po' di più. La Virtus di nuovo in attacco, Barattini per Balciunas, gioca con il lungo Balciunas. Balciunas di nuovo Barattini, in angolo per Balciunas, ancora da tre punti. Tiro un po' frettato, ma Taranto se vuole recuperare deve trovare tiri veloci e canestri veloci. Barattini su ribaltamento, Balciunas, lay-up del lituano. Il secondo canestro su cinque tentativi da due punti per Conte. Da tre punti Balciunas, sotto di fronte, non trova né la conclusione né il fallo. Ragagnini, di nuovo la Virtus in attacco. Difesa schiarata, Barattini. Post basso per Ronene, non c'è il passaggio ma c'è il passaggio.